Paolo, al di là del risultato, è stata una delle tue migliori partite di quest'anno secondo te? Non ho capito. Al di là del risultato, è stata una delle tue migliori partite di quest'anno secondo te? Ma sì, è stata diciamo una delle migliori partite un po' della squadra, sai, tre a due qua abbiamo perso di praticamente niente, l'abbiamo perso però il rammarico c'è, sicuramente un po' di delusione per qualcosa che potevamo fare meglio ma adesso c'è il quinto posto che non vogliamo perdercelo e torneremo in palestra più carica ancora. Due sette dominati, il primo e il terzo, poi nel secondo e nel quarto qualche sbavatura all'inizio che vi è costata carissima poi nel bilancio della partita? Sì, qualche sbavatura, sicuramente loro hanno spinto in battuta nel secondo e nel quarto ma anche nel quinto, infatti noi eravamo sotto, è stato bravo anche Iuri a recuperarla, l'ammarico un po' c'è, avevamo anche la palla in mano, diciamo che ci sta, ci sta. Ti ripeto, adesso metteremo a posto le idee e torneremo in campo più forti di prima. Come si rimettono a posto le idee dopo una delusione come quella di stasera? Si rimettono con la consapevolezza di aver fatto un bel percorso, siamo arrivati a un punto da portare a gara 3 a Modena, a casa loro, sicuramente anche la gara di andata potevamo fare qualcosa di più ma lo sappiamo, ce lo siamo detti, oggi l'abbiamo messo in campo, è mancato praticamente niente, è mancato quelle due palle che ti fanno vincere e perdere la partita, questa è la palla a volo.